troppo lontano dalla porta attenzione attenzione fuori gioco non l'avevo minimamente visto attenzione spazziamo via appareggiato il portogallo incredibile ma che cazzo fa bene? passa fuori ma che cazzo è? passala qua dai passala qua che adesso me lo salto questo dammela qua vediamo se riesco a segnare di nuovo all'ottantanovesimo 2 a 1 la riporto sempre in piedi io la riporto sempre in piedi io attenzione incredibile niente qualificazione rimandata 2 a 2 terminiamo questa stagione con l'ajax abbiamo vinto le redivisie abbiamo vinto la coppa e ovviamente siamo arrivati ai quarti di finale di europa league dove siamo stati eliminati ricordatelo perché io non voglio nemmeno dirlo io adesso non lo so io vorrei cambiare club io non so dove possiamo andare possiamo andare anche nella liga raga possiamo andare a giocare con un atletico madrid oppure celsire che è una bellissima squadra possiamo anche ritornare in serie a dove possiamo conquistarlo attualmente rimaniamo all'ajax andiamo a giocare contro inghilterra la classifica è questa qua l'inghilterra vincendo ci supera però ovviamente noi siamo qualificati perché questa è la classifica 4 2 2 siamo già qualificati alla fase finale degli europei andiamo a giocare contro l'inghilterra questa partita entriamo al cinquantottesimo siamo ancora 0 0 possiamo vincerla attenzione attenzione all'inghilterra spazza via dai valla prendere la palla però attenzione incredibile attenzione l'isalto l'ultimo non ci sono riuscito attenzione a kane ancora la palla in gioco c'è la difesa spazzate via spazzate via prendete la palla dai passaggio sbagliato ovviamente non dovevo passarmi in quel momento però adesso è giusta adesso è giusta possiamo avanzare io gliela passo io vado avanti tira tira nemmeno calcio d'angolo nemmeno calcio d'angolo incredibile vabbè ancora la partita non è proprio finita dai devo fare pure da difensore ovviamente perché se vogliamo tenere il risultato io ovviamente non sono bravo in difesa vai così spazzala via 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 uscita dall'aria per favore vediamo se riesco a saltarne qualcuno ci provo me la para ci provo la metto in mezzo il portiere ci arriva attenzione forse calcio di rigore ecco le mani l'ha presa praticamente l'ha presa con le mani calcio di rigore c'è il ti che cazzo di tiro era che cazzo di tiro era no 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 io non accetto queste cose cosa era quello dammi sta palla qua dammi per favore mamma mia che cosa ho visto che scempio adesso se prendiamo gol ce lo meritiamo tutto ce lo meritiamo perché non si può fare un errore così vediamo se lo riesco a saltare posso riprendermi il calcio di rigore sbagliato attenzione ci provo sul portiere porca attenzione l'inghilterra attenzione l'inghilterra che ci prova prova l'assedio finale la mette in mezzo libero super spazzata del portiere in qualche modo riesce a passarmela ok forse giusto forse buono non lo so vediamo se riesco a girarmi ma impossibile da quella posizione tira go 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 una testa che sofferenza attenzione alla difesa attenzione l'inghilterra ci si prova Mamma mia Pallone ancora a tre piedi Dell'Inghilterra cazzo Ci va a finire sempre così Ha segnato Rashford Peccato Peccato Ora ci fanno il culo ci fanno Vediamo se riesco a saltarlo Incredibile Attenzione ci posso provare C'è il portiere calcio d'ancolo Attenzione ci prova di testa Ottimo cross Su calcio d'ancolo Fancuro 2-1 Questa volta dobbiamo tenere il 2-1 Non come in Portogallo Recupera palla benissimo Vediamo se riesco a saltarlo in qualche modo Vediamo in mezzo A tre Difficile Difficile passare da lì L'importante è che abbiamo vinto 2-1 Questa è la classifica Inghilterra eliminata dall'europeo Abbiamo eliminato l'Inghilterra Cosa non da sottovalutare Perché adesso c'è il Portogallo Qualificato insieme a noi Italia Norvegia 1-1 Ottavi di finale Attenzione perché posso creare l'occasione E porca puttana Per un millimetro però Vediamo se riesco a fare qualcosa Lo vedo Mi passo la palla Attenzione Porca puttana però Prendila la palla Ancora ci dormi Ma è una squadra super chiusa questa qua Incredibile Mamma mia Prendila la palla Prendila Non ci dormire sopra Non ci arrivo purtroppo Non ci arrivo Attenzione Ci arriva il nostro compagno Può crearsi il contropiede Ritornano indietro Ma che cazzo è Palla nostra Palla nostra Buona C'è anche il cartellino giallo Vediamo se riesco A saltarlo Lo vedo E dai però Dai Non sapete tenere la palla Tra i piedi Attenzione Incredibile Mamma mia Mamma mia Vediamo se riesco a tenerla Ci riesco In qualche modo Attenzione Perché ho l'occasione Gol 2-1 Merito mio Attenzione alla Norvegia adesso Attenzione La difesa dorme La difesa dorme Mamma mia Passala qua Passala Vai tu E sono fuori gioco Attenzione Adesso sono libero A me la potevi passare Ero libero Attenzione Attenzione Recupero la palla Attenzione perché siamo in inferiorità Siamo in inferiorità Recuperate posizione Non farsi schiacciare Nella propria metà campo E tenere in vita Il match 5 minuti alla fine Cazzo sbagliato Però c'è il fallo Decide così Ma chi cazzo c'è lì Io vorrei sapere Cosa cazzo c'è lì Che l'hanno passata lì Attenzione Attenzione Non mi piace questa situazione Pressing Pressing Ma chi cazzo Perché la passi lì Che quello Praticamente era in porta Attenzione Attenzione Questa è una bruttissima situazione Attenzione Recupero la difesa Vinciamo Non so nemmeno io come Andiamo ai quarti Non mi ero accorto Che erano le semifinale Quindi quarti di finale Semifinale Stiamo giocando Vabbè Semifinale contro Uncheria Uncheria le semifinali Dell'europeo Mamma mia